Come la solita, la prima che si gioca in una competizione così, dove si vuole vedere un po' dove si è rispetto all'altro girone, per capire un po' gli equilibri. Secondo me noi abbiamo giocato poi, al di là del risultato, abbiamo fatto veramente una bella palacanestro, dove ci siamo divertiti tutti insieme. Ripetevo prima, dicevo prima, anzi, dei ragazzini, dei ragazzi giovani, che è molto importante che loro ci diano una mano, oggi ce l'hanno data, e quando noi siamo questo tipo di gruppo insieme, veramente stiamo bene, poi lo facciamo vedere in campo. Sulla partita proprio in sé per sé c'è poco da dire, perché veramente lo scarto poi dopo. Quando la partita nel secondo tempo è diventata difficile, secondo me loro, anche perché gli mancava un giocatore, avevano anche le rotazioni un po' più corte, noi lì abbiamo preso questo gap molto importante, e poi abbiamo finito con, adesso non lo so, più 30, però... È una partita importante perché è subito la prima in casa, si gioca anche a Bologna, come dicevo, anche prima, nell'intervista prima, questa società ha nel DNA di vincere sempre qualsiasi competizione si presenti davanti, per cui noi dobbiamo onorarla, e così abbiamo fatto oggi. Domanda per Claudio. È stato un rientro più bello o più difficile? È stato un rientro bello, per me specialmente è stato veramente un periodo difficilissimo, dove cinque mesi fuori è stato un incubo per me, ma oggi sono felicissimo, doveva arrivare questo giorno, prima o poi è arrivato con questa bella vittoria, sono stracontento, guardo solo in avanti, adesso non indietro. Altre domande? Le faccio un'è, Claudio. Trieste è una squadra di atletismo, soprattutto una squadra che ha una grande fiducia in questo periodo. Sembra che tutto riesca, sono un mix di buona situazione, alba, tiratori, difesa, giura, quindi domani sarà una sentita, cioè se si capisce da due? Loro storicamente come squadra, del credo di un allenatore che è lì da tanti anni, hanno sempre avuto questa mentalità, la difensiva, di aggressione, proprio di aggredirti subito come squadra. Quest'anno hanno aggiunto anche, secondo me, tanta qualità, tanti punti nelle mani, al di là del solito atletismo, magari che avevano anche gli anni scorsi, e hanno fatto questo mix insieme veramente importante per questa categoria, dove forse non si vedeva da tempo questo mix di talento, atletismo, giocatori giovani, e imporre così proprio la partita come vogliono loro. Sarà difficile, però siamo qua per vincerla, come dicevo prima, perché non possiamo giocare per un altro obiettivo.